Si parte per una nuova avventura del tour Oggi partiamo un po' da Bassi Partiamo da Bassi ma facciamo una delle ferrate più difficili d'Italia Ferrata Pisetta Sigla Come al solito abbiamo sbagliato strada Abbiamo trovato l'attacco, siamo mongoli Molto in salita Anche molto al sole Questa estate Deve fare un bel caldo Anche finalmente siamo arrivati Si presenta già Abbastanza in salita Per ora Molto molto ripida E a volte La roccia è leggermente scivolosa Questa è la prima parete all'ombra Ma meglio perché è veramente caldo Andava ragazzi Anni e anni di esperienza in ferrata Sono tanti appoggi anche qua Nella roccia Non è male Pochi ma buoni Veramente stabili Con la fatica Comunque si sente Si è tutta verticale Ma sempre qualche appiglio Anche se è un po' nascosto Grazie a tutti mi sembrava veramente peggio la metà della ferrata che comunque si fa rispettare sempre sempre tosta ogni parete però devo dire che c'è più riposo di quello che mi aspettavo dopo ogni parete c'è una parte in cui comunque si può riposare un attimo riprendere il fiato guarda la fatica questa parte qua è una fatica la faccio orco cazzo cane porco porco cane apprestiamo la prossima parete anche questa sembra molto in verticale con qualche appiglio forse meno di prima sembra di capire questa è una bella parete complicata che ale sta facendo di merda che ale sta facendo di merda boom madonna c'è ragazzino che c'è una bestia merda tutta la parete tutta così è tutta così mi ha garantito da una vita mi piace niente però forse questo è il pezzo più difficile ok l'appoggi ho già la foto il piede anche qui è un po' sonno ale ha spiattellato come i migliori tutorial bacino attaccato alla parete e lui va su non si ferma vediamo questa parte molto esposta la seconda parte di questa parete qua ci si appoggia bene per riprendere un ottimo fiato poi vedo che lì lì ci sono degli appoggi che se no la roccia qua è troppo liscia qua se l'appoggio qui andiamo a arrivare a quello ok ok cazzo cazzo questo è i 90 gradi praticamente com'è ale è arrivati è bellino da vedere è anche bellino da vederli qua e ora è alla fine ale lo speciale 50 iscritti sulla pisetta ah è vero bravo meritava seguire ale per il pranzo guarda andiamo vediamo che la prima com'è ale ecco qua il bel panorama mi ha finito la ferrata e anche mangiato e alla fine ci siamo goduti anche questa vista inaspettata che trovavamo c'è stato molto più schifo c'è un bel barretto che ci aspetta a pochi minuti speriamo che il ritorno sia decente ottimo stuzzichino un buon gorgonzola la ferrata è finita mi raccomando iscrivetevi al canale obiettivo 100 iscritti entro entro quando riusciamo insomma a